Andrea Bocelli, 22 maggio 2020. Carissimi amici degli Accessibility Days 2020, a fronte dell'inattesa emergenza che ha travolto il mondo e dalla quale siamo al momento solo parzialmente usciti, siamo chiamati a vivere questa crisi come una sfida e un'opportunità oltre che una grande responsabilità. Ecco perché tengo particolarmente a far pervenire il mio più affettuoso saluto e incoraggiamento, ma anche il mio più sentito ringraziamento ai partecipanti di questa edizione in streaming di Accessibility Days, complimentandomi per ciò che fate e trasmettendovi il mio augurio affinché questi due giorni di confronto e di studio su tecnologie digitali e accessibilità siano per tutti voi avvincenti e fruttuosi. I temi che affrontate, e di per sé di grande pregnanza, alla luce degli accadimenti degli ultimi mesi assumono uno spessore, un'attualità, un'urgenza che li rende indispensabili e irrimandabili. Credo che la diversità sia potenzialmente sempre un'opportunità. In quest'ottica ogni limite, quale esso sia, può tramutarsi in un percorso di crescita. È una nuova cultura dell'abilità da diffondere e supportare, anche grazie alla tecnologia, in un processo di empowerment mirato a far sì che tutti abbiano la possibilità di esprimere al meglio le proprie capacità. Come non mi stanco di ripetere, la vita è un'avventura appassionante e il corpo umano ha infinite potenzialità. Ciascuno ritengo debba accogliere, con serenità e riconoscenza, gli strumenti che la vita gli offre e, rimboccandosi le maniche, debba imparare a farli fiorire, facendo in modo che esprimano al massimo le loro potenzialità. In tale processo, la tecnologia può essere un supporto straordinario e fare la differenza nella vita di tantissime persone. Nel mio quotidiano la tecnologia è essenziale e è in questi tempi che l'emergenza sanitaria ha reso ancora più complessi, si è dimostrata un supporto fondamentale per tutti. Se nella mia infanzia, negli anni 60, avessi potuto usufruire di simili supporti, il mio apprendistato scolastico, anzi la mia formazione 2Q, sarebbe stata assai più agevole e potenzialmente più ampia. Oggi ci troviamo nel pieno della quarta rivoluzione industriale, in cui il mondo digitale e tecnologie quali la robotica e l'intelligenza artificiale convergono sempre più, per creare e produrre in modo più rapido ed efficiente. Benvenga questa rivoluzione quando applicata ad esempio alla microchirurgia, all'industria, benvenga la tecnologia digitale mirata all'accessibilità e all'inclusività, benvenga l'innovazione tecnologica applicata anche alla musica, perché se utilizzata correttamente può essere d'aiuto alla creatività e alla produzione artistica. Augurando buon lavoro a tutti i partecipanti e alla manifestazione, il meritato successo e l'adeguata eco-mediatica, vi saluto caramente. Andrea Bocelli Info chiocciola andrea bocelli.com Info chiocciola andrea bocelli.com Info chiocciola e Bottice Grazie a tutti.